Si è tenuto a Napoli, nel complesso monumentale di Santa Maria la Nova, il secondo forum nazionale sull'economia circolare, promosso da edizioni ambiente, rivista materia rinnovabile e assessorato all'ambiente del comune di Napoli. La tematica scelta, i trend dell'innovazione, in merito a un presente che impatta sul futuro, attrazione ecosostenibile, dalla bioeconomia circolare alla valorizzazione del territorio, sostanziose le tematiche di confronto messe in campo dall'organizzazione, spazio alla questione riciclo, come ha spiegato Francesco Iacotucci, amministratore delegato di ASIA, azienda della raccolta di rifiuti urbani della città di Napoli. Ascoltiamolo. Noi come azienda non solo stiamo lavorando per l'incremento della raccolta differenziata, ma anche con un occhio all'impiantistica, dall'impianto di compostaggio all'impianto per la lavorazione, anche delle frazioni secche, stiamo cercando di entrare proprio nel concetto di economia circolare, quindi non più azienda soltanto che cura la raccolta, ma che va anche con un occhio al cittadino e un occhio anche alla valorizzazione dei materiali. Questo per far sì che sia un processo sempre più responsabile e corresponsabile anche insieme ai cittadini e anche al sistema produttivo.